Cara Caponago, con questa lettera vi raccontiamo il progetto che abbiamo fatto. È tempo di ascoltare. Cominciando da marzo abbiamo ricevuto una lettera, un telegramma, una cartolina e una telefonata dal telefono fisso. Ci è arrivata, dopo qualche mese, una mail con allegate foto di Caponago antica. Poi un sms e un messaggio whatsapp. Con una chiamata di Meet abbiamo concluso il percorso che è partito dal passato ed è arrivato ai giorni nostri. Concludiamo il progetto con questa sorpresa per voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.